Certificati anagrafici e di Stato civile. I cittadini residenti e non residenti a Roma possono richiedere dal 1 ottobre 2019, senza prenotazione presso i municipi, i certificati anagrafici e di Stato civile, compilando un apposito modulo di richiesta ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Non sarà più necessario avvalersi del sistema di prenotazione Tupassi.